Gospodine Isuse, Signore Gesù, durante Tua vita terrena, Ti sei incontrato con tante persone. Gli uomini con le proprie difficoltà e angosce venivano da Te, perché sapevano che Tu li puoi guarire. Attorno a Te c'era sempre una fola. O loro che avevano bisogno di una guarigione, di una liberazione dalle malattie, dal male, dal maligno. Signore, anche a noi sei vicino. Sei in mezzo a noi. Perché Tu hai detto che sarai lì dove due o tre sono radunati nel Tuo nome. sono in preghiera. Poi hai detto di non lasciarci mai orfani e non ci lasci da soli ma che sarai con noi fino alla fine del mondo. Signore, grazie perché anche adesso sei con noi. Perché la Tua presenza ci dà la forza, la fiducia che noi sappiamo Tu ci guarderai che avrai pietà di noi e che ci guarirai. Grazie a tutti. Grazie a Christi 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 Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Christele Ison Kyrie Ele Ison Kyrie Ele Ison Voi, vostre famiglie, tutti coloro per chi stasera avete pregato benedica a Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo